Ai vertici dell'organizzazione del vasto giro di spaccio, i marocchini, alcuni residenti, nelle chiese e gli italiani svolgevano il ruolo di pali o vedette. L'operazione antidrogue è stata condotta dai carabinieri della compagnia di Cantù in quattro province lombarde, Como, Milano, Bergamo e Lecco, 16 rimisure cautelari, 14 in carcere, 2 domiciliari, emesse dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como, Carlo Cecchetti, su richiesta della procura. Si tratta di 11 soggetti di nazionalità italiana, 9 di nazionalità marocchina, 1 di origine polacche. L'indagine ha origine dagli approfondimenti avviati nel 2016 dalla stazione Carabinieri di Lomazzo relativi allo spaccio di sostanze stupefacenti in alcune aree boschive della provincia di Como. Sgominati tra i gruppi criminali, le piazze dello spaccio erano i boschi di Cadorago, Fino Mornasco, Bulgaro Grasso, Appiano Gentile, Oltrona di San Mamete e Lurate Caccivio. Nel corso delle indagini erano già state arrestate 4 persone, 3 in fragranza di reato, 8 sono state denunciate in stato di libertà e 57 sono state segnalate in quanto utilizzatori di sostanze stupefacenti. Sono stati anche trovati e sequestrati 588 grammi di hashish, 111 di cocaina, 55 di eroina, 55 di marijuana.